Ti ricorderemo per sempre Filo, uno striscione carico di affetto ma anche di dolore davanti al Duomo di Fossombrone, intorno alla cattedrale forsempronese una folla commossa atteso l'arrivo del feretro. In tanti questo pomeriggio hanno voluto salutare per l'ultima volta Filippo Giovannelli, il diciottene di San Lazzaro che ha perso la vita sabato notte in seguito ad una rovinosa caduta in scooter con il quale stava tornando a casa finendo contro un guardrail a poca distanza dalla sua abitazione. Il Duomo non è riuscito a contenere le tante persone arrivate, presenti gli amici, compagni di scuola dell'istituto agrario Cecchi di Pesaro, gli insegnanti e tante persone che conoscevano Filippo. La sua famiglia, la mamma Tamara, il babbo Diego e la sorellina Linda si sono stretti nel dolore per questa perdita. Il parroco Don Steven Carboni che ha celebrato l'esequie ha ricordato lo sguardo di Filippo carico di simpatia e bontà che diventa rosso solo a guardarlo. Poi ha raccontato un aneddoto legato al momento in cui un paio di settimane fa gli amici di Filippo gli hanno fatto una sorpresa in occasione del suo compleanno dei diciotto anni, portandogli intorno al letto un cartello con il messaggio di auguri. Il filo che è stordito si sveglia dalla vostra casciara, riguarda, legge il manifesto e non fa nient'altro che dire tirandosi su, col suo solito sorriso imparazzato e umile, che va detto grazie. Intanto sono buone le condizioni generali della ragazza che viaggiava con il diciottenne sul cellino posteriore. Ha riportato la frattura della tibia destra, la gamba l'è stata ingessata, deambula con le stampelle.